Benvenuti al tutorial di Azul, vi illustrerò le regole nel dettaglio e scopriremo chi saprà creare il muro meglio decorato. Alla fine del video non perdetevi i pro e contro di questo gioco. Ciao ragazzi, io sono Miss Meeple e questa è la mia rubrica di video tutorial di giochi da tavolo, in cui vi illustro i regolamenti per capire se un gioco fa per voi e per iniziare subito a giocare. Se è la prima volta che passate di qui iscrivetevi al canale per non perdervi i nuovi video. Ne approfitto per salutare e ringraziare il negozio Fantamagus di Milano per il supporto alla realizzazione di questo video. Azul è un gioco astratto del 2017 di Michael Kiesling, da 2 a 4 giocatori, con una durata indicativa tra i 30 e i 45 minuti. L'edizione italiana è curata da Genos Games e ne vedremo un'anteprima a Modena Play 2018. Vediamo come si gioca. Ogni giocatore riceve una plancia con il tracciato dei punti e il muro da decorare con le piastrelle di vario tipo. Utilizzate il lato colorato per le prime partite. Il segnapunti va sullo 0. Al centro del tavolo si posizionano gli espositori circolari in base al numero di giocatori. 5 se si gioca in 3, 9 se si gioca in 4. Tutte le piastrelle vanno mescolate nel sacchetto. Chi ha visitato più di recente il Portogallo diventa primo giocatore. Il primo giocatore pesca dal sacchetto dei gruppi di 4 piastrelle e li posiziona casualmente su tutti gli espositori. Lo scopo del gioco è ottenere il maggior numero di punti piastrellando il muro. La partita termina quando un giocatore realizza una riga completa di piastrelle. La partita dunque si svolge in un numero non fisso di round, ognuno dei quali è diviso nelle seguenti fasi. Proposta, piastrellamento, preparazione del round successivo. Durante la proposta il primo giocatore posiziona il segnalino primo giocatore al centro del tavolo e gioca per primo. Nel proprio turno un giocatore può effettuare una delle due seguenti azioni. Prelevare tutte le piastrelle dello stesso colore presenti su un espositore a scelta e spostare tutte le rimanenti al centro del tavolo. Prelevare tutte le piastrelle dello stesso colore dal centro del tavolo. Il primo giocatore a prelevare una o un gruppo di piastrelle dal centro del tavolo prende anche il segnalino primo giocatore. Giocherà per primo a round successivo, ma il segnalino viene posizionato sulla riga in basso della plancia che indica i malus ottenuti ad ogni round. In questo caso prendere il segnalino primo giocatore varrà in seguito anche un punto in meno nel conteggio parziale di fine round. Le piastrelle prelevate dall'espositore o dal centro del tavolo vanno posizionate sulla parte sinistra della propria plancia, dove ci si prepara a piastrellare. Le tessere vanno messe su un'unica riga, ma non è obbligatorio riempirla. Se si prelevano più tessere di quelle necessarie per riempire la riga scelta, quelle avanzate cadono a terra, si custodiscono nella riga in basso e varranno punti negativi. In ogni riga finché non la si svuoterà ci possono solo stare piastrelle dello stesso colore. Inoltre, su una riga non si possono posizionare piastrelle di un colore di cui è già stato posizionato un esemplare sul muro in un turno precedente. Infatti su ogni riga e colonna sono rappresentati solo una volta tutti i colori delle tessere. Siccome si è sempre obbligati a prendere tessere ad ogni proprio turno finché non terminano quelle sul tavolo, può capitare di essere obbligati a prendere tessere che non si possono posizionare. In quel caso cadono tutte nella riga dei malus. Si procede quindi a turno pescando tessere e posizionandole sulla propria plancia finché non sono terminate tutte le tessere al centro del tavolo e sugli espositori. A quel punto si passa alla fase di piastrellamento, che i giocatori possono svolgere contemporaneamente. A partire dalla riga in alto e scendendo verso il basso, si può piastrellare una riga solo se è piena, altrimenti la si lascia così com'è per il round successivo. Di tutte le righe piene si preleva la piastrella più a destra e la si usa per coprire la piastrella dello stesso colore sul muro. Le tessere restanti vengono scartate e tenute da parte. Non appena si riesce a posizionare una piastrella sul muro si ottengono punti vittoria. Un punto per la nuova tessera e uno per tutte le tessere adiacenti in riga e colonna. Ad esempio piastrellare questa tessera vale uno, due, tre, quattro, cinque punti. Come vedete, se la tessera appena posizionata appartiene sia ad una riga che ad una colonna, il punto per la tessera posizionata si conta due volte. Si aggiorna immediatamente il segnapunti. Dopo i punti positivi guadagnati per tutte le tessere piastrellate, si sottraggono gli eventuali punti negativi indicati negli spazi coperti da tessere. Le piastrelle nella riga dei malus vengono scartate, il segnalino primo giocatore resta nelle mani del possessore. A quel punto si controlla se qualche giocatore ha completato una riga sul muro. Se nessuno ci è riuscito, si prosegue con la preparazione del round successivo. Il primo giocatore estrae gruppetti di quattro piastrelle e li posiziona sugli espositori. Se terminano le piastrelle nel sacchetto, si rimescolano gli scarti e si prosegue con il round successivo. Quando un giocatore completa una riga alla fine del piastrellamento, termina la partita e si procede al punteggio finale. Ai punti guadagnati durante la partita si sommano due punti per ogni riga completata, sette punti per ogni colonna completata, dieci punti per ogni colore completato, ovvero di cui sono state piastrellate tutte e cinque le piastrelle. Chi ha più punti è il vincitore, in caso di parità vince il giocatore che ha realizzato più righe complete. Papino, ti faccio provare un gioco nuovo? No, 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 niente paura, tre regole in croce, ma è bellissimo. Cioè, tu hai preso quella tessera che non ti serve per lasciare a me queste quattro che non posso mettere da nessuna parte? Sette punti negativi, sei veramente insopportabile. Va bene, hai vinto tu. Dammi la rivincita, subito! Vabbè, ma astratto per astratto potevate evitare questa ambientazione da calce e cazzuola. No, 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 non mi farai innamorare di un gioco in cui non ci sono pezzi di legno. Oddio, che bella la plastica! Ma con questa scatola così grande, chi ti credi di essere un gestionale? Azul ha tutte le carte in regola per conquistare il grande pubblico, e già lo sta facendo, con le sue tessere in plastica molto spesse, che sono un piacere da maneggiare, con il suo regolamento di appena 6 pagine, molto snello e semplicissimo, e con la sua interazione piuttosto cattiva, che porta a volere la rivincita a tutti i costi. Ha una facilità di apprendimento che vi porterà a farlo provare anche ad amici e parenti, veramente tutti possono giocare ad Azul. Ma se a prima vista può sembrare un'innocente pesca di tessere colorate, i gamer non resteranno delusi dalle possibilità offerte da questo gioco. Con un colpo d'occhio va individuata la combinazione di tessere che ci può essere più utile in base ai colori usciti, alla situazione sulla nostra plancia, sulle plance degli avversari, e in base al numero di prese che più o meno ci restano da fare entro la fine del round. L'interazione è soprattutto indiretta, ed è dovuta principalmente alla pesca comune delle tessere, ma può tramutarsi in un batter d'occhio in un sabotaggio voluto e consapevole, quando si lasciano agli avversari delle tessere che sappiamo varranno come punti negativi. Questo aspetto si accentua in due giocatori, quando ogni scelta è fatta deliberatamente pro se stessi e contro l'avversario, mentre in più giocatori è più casuale a chi indirizzare i malus. I primi turni scorrono veloci, quasi un po' ripetitivi, perché bene o male ogni mossa è lecita e si può cominciare a piastrellare il muro da dove si vuole. Man mano che si avanza però le possibilità scarseggiano, e si comincia ad avere bisogno di uno specifico colore in una specifica quantità e a voler fare di tutto per ottenerlo. Ovviamente però è consigliabile cominciare fin da subito a pianificare come piastrellare il muro per creare dei gruppi omogenei di tessere e guadagnare il maggior numero di punti possibili ad ogni singolo posizionamento. Esiste una variante sul retro della plancia in cui saremo noi a decidere su quale spazio posizionare quale tessera, tenendo conto che su ogni colonna ci dovranno essere i 5 colori diversi. Se da un lato può sembrare più semplice, dall'altro questa variante vi distrarrà molto e vi ritroverete a dover stare attenti a non fare errori di posizionamento piuttosto che a pianificare la partita. Se siete allergici agli astratti o ai giochi che durano meno di un'ora potete saltarlo, altrimenti vedo veramente pochi motivi per cui non dovreste provare questo azul. Fatevi sapere se lo avete provato e cosa ne pensate. Se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per ricevere le notifiche. Alla prossima e buon gioco!